Tirava sassi alle auto in corsa senza alcun motivo e solo per un caso i danni si sono limitati alle vetture. Ma alla fine all'ospedale è finito il protagonista, per il quale si è reso necessario il trattamento sanitario obbligatorio. Si tratta di un 19enne nigeriano con regolare permesso di soggiorno e con richiesta d'asilo in Italia, che era già stato al centro della cronaca quando aveva superato i controlli del Canova e stava per prendere un aero per Hamburgo. Martedì scorso si sarebbe posizionato lungo via dei Santi a Casier prendendo a sassate le auto in transito. Subito gli automobilisti colpiti hanno avvisato la polizia locale che ha provveduto a bloccare il giovane che attualmente risiede in uno degli appartamenti costruiti da un'industria in via Bigonzo. Il 19enne era visibilmente agitato e in stato confusionale e per questo si è provveduto al ricovero all'ospedale in attesa dei provvedimenti nei suoi confronti.